Si dice in giro con insistenza che un certo numero di ristoranti gloria della gastronomia internazionale sarebbero sul punto di essere acquistati dalla società di Tricatel. Così questo sinistro personaggio vorrebbe proseguire nella sua impresa di distruzione cancellando ogni possibilità agli ultimi difensori della cucina di qualità o peggio vuole impedirci di poter giudicare il suo cibo schifoso. Signor direttore? Si? Ho l'impressione che siamo seguiti. Seguiti? Da chi? Da quell'auto bianca, ce l'abbiamo dietro da più di due ore. Rallentare e controllare. Se vuole l'asseminiamo, signor direttore. Eh, ma come? Andando più veloce. Ah no, 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 no. Sai correre? Ci proverò, signore. Sì, ma ormai è troppo tardi, praticamente... Accelerare! Oh, molte grazie, signore. Oh no. Tenetevi forte! No, 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 no. Papà! Se fischi un'altra volta mi innervosisco. Il treno! Lo vedi il treno? Io proverai a passare. No! No, ti ho avuto il treno! Evviva! Ci sono riusciti! L'ha fatto! L'ha fatto! L'ha fatto! L'ha fatto! L'ha fatto! L'ha fatto! Grazie a tutti.